Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Cosa è successo nel corso dell'appuntamento di lunedì 11 aprile? Scoppiano le coppie, nascono le squadre e chi è al televoto Non esistono più le coppie all'isola dei famosi 2022, ma le tribù Tutti i naufraghi dalla settima puntata dell'11 aprile in poi gareggeranno come concorrenti singoli, ma allo stesso tempo divisi in due squadre Ilari Blasi ha aperto la puntata annunciando la formazione di due tribù che dovranno scontrarsi fra loro Certo è che le coppie sono scoppiate, ognuno penserà a sé. Una notizia che ha rallegrato Floriana Secondi, visto che è finita due volte in nomination a causa del suo compagno, prima per Zekila, poi per Clemente Russo Certo è che se venisse nominata di nuovo reagirà peggio di come ha già fatto, ma non è stata l'unica dinamica degli ultimi giorni Ilari ha cominciato la serata proprio parlando con Floriana e del dispiacere provato per la nomination Si è lamentata del montaggio delle clip, secondo lei non verrebbe mostrata tutta la verità Albina ha difeso il programma, sono montati scientemente però, in base a quello che succede in Playa La conduttrice le ha spiegato che le clip devono essere brevi e sintetiche per forza di cose, ma c'è un daytime che dura anche tre ore Quindi ha aggiunto che Carmen Di Pietro ha spiegato molto bene perché ha nominato la coppia di Floriana e Clemente, ma la seconda ha detto che non ce l'aveva con loro per la nomination, ce l'avevo con un sistema a cui ancora non mi abituo Nel frattempo Luxuria faceva girare la borsetta al polso, visibilmente contrariata dalle parole di Floriana Vladimir ha chiesto a Floriana se ha mai visto l'isola, visto che le nomination non sono una novità La naufraga ha replicato Dino, non ha mai visto il reality, ma l'opinionista ha sbottato, non fare la rosicona, sembri più un castoro che una naufraga Non rosicare! Floriana ha replicato ricordando di aver già affrontato un reality sempre in nomination, quindi il suo problema dopo la scorsa puntata non era la nomination Era già arrabbiata ancora prima di arrivare sulla playa ed essere nominata, in realtà le immagini sembravano dire proprio quello Un inizio di puntata con le scintille, insomma, poi Hilary ha chiamato in disparte Floriana per affrontare con lei altri argomenti La concorrente però è rimasta al discorso di prima, poi ha parlato col compagno Angelo Nicolas Vaporidis contro Geremias Rodriguez all'isola, aggressivo, metti l'ansia Scintille anche tra Nicolas Vaporidis e Geremias Rodriguez, ormai ai ferri corti Il comportamento di padre e figlio Rodriguez non piace al gruppo, ma in mano iniziano ad avere scontri con tutti Sei aggressivo? Metti l'ansia, provochi, rispondi male, gli ha detto Vaporidis Geremias e Gustavo ovviamente hanno negato tutto, ma sui social il pubblico era schierato con Nicolas Intanto è arrivato il verdetto del televoto, la coppia eliminata è quella di Floriana e Clemente, che però sono andati su playa sgamada Queste le percentuali del televoto, Ilona e Nicolas 57%, Clemente e Floriana 43% Prima lasciare la polopo hanno dato il bacio che vale una nomination a Roger e Estefania A proposito di Estefania e Roger, ma dallo studio Antonio Zecchilla ha attaccato la concorrente Secondo lui infatti Estefania starebbe fingendo con Roger, a Milano hai detto di Roger quel bamboccio non mi piace A me piace Geremias peccato sia fidanzato Ammettilo! Sei falsa fino alla fine! La naufraga ha confermato di aver espresso apprezzamenti per il giovane Rodriguez, ma ha negato le parole su Roger Quest'ultimo ha creduto alla fidanzata.Isola 2022, addio coppie, solo una è ancora in gara, nascono le tribù Su playa sgamada, intanto, Laura Maddaloni si è preparata a tornare sull'altra playa Ha ammesso di voler portare con lei Giovana, ma Ilari ha aperto un televoto flash per lasciar scegliere al pubblico chi riportare in polopo, Giovana Tornata dal gruppo principale, Ilari Blasi ha annunciato la scomparsa delle coppie e la formazione delle tribù Da oggi i naufraghi vivranno su due spiagge diverse, non potranno avere contatti né passarsi cibo tra loro Solo una coppia proseguirà come tale il gioco, la scelta era nelle mani dei concorrenti stessi Solo una coppia ha avuto questa possibilità e sono stati i naufraghi stessi a decidere se proseguire in coppia o come singoli, esprimendo la preferenza sulla lavagnetta Rodriguez, Estefania e Roger, Tavassi e Di Pietro hanno segnato coppia quindi si sono giocati questa possibilità La prova dell'appeso ha stabilito l'unica coppia ancora in gioco all'Isola 2022, Roger e Estefania Quindi si sono formate le due tribù e le coppie si sono dovute separare Tribù Tiburon, Edoardo, Alessandro, Gereninas, Ilona, Blind, Estefania e Roger La coppia è leader Tribù Cucaracia, Gwendalina, Carmen, Gustavo, Nicolas, Nick, Giovanna e Laura Nicolas è leader. La prova ricompensa è stata vinta dalla tribù del Tiburon Poi la conduttrice ha aperto un nuovo confronto sui Rodriguez, che hanno avuto scontri anche con i fratelli Tavassi In particolare Edoardo si è risentito con Geremias perché si è allontanato a causa del suo rapporto con Vaporini Il fratello di Gwendalina sentiva una sintonia con l'altro, per questo ci è rimasto ancora più male vedendo un cambiamento improvviso a causa di Nicolas Pare abbiano intenzione di rimediare a questi batti vecchi I leader delle due tribù si sono sfidati nella prova del girarrosto per guadagnare l'immunità per la propria squadra, ha vinto Roger, quindi Tiburon Immuni Isola dei Famosi, le nomination della settima puntata, chi è al televoto Le nomination della settima puntata dell'Isola dei Famosi 2022 sono state le prime da concorrenti singoli La tribù Cucaraci ha fatto le nomination palesi, con la lavagnetta, mentre i Tiburon hanno nominato in segreto Laura e Giovanna erano immuni perché appena arrivate in Polo Opo, ma hanno nominato Gwendalina, Gustavo e Carmen avevano già un voto per aver perso la prova delle coppie I nominati di stasera sono Nicolas, Gustavo e Nick L'ultimo nome è la nomination del leader, Roger e Stefania Queste le nomination fatte dai concorrenti Carmen ha nominato Nicolas Gustavo ha nominato Gwendalina Nick ha nominato Nicolas Laura ha nominato Nicolas Giovanna ha nominato Nick Gwendalina ha nominato Gustavo Nicolas ha nominato Gustavo Alessandro ha nominato Nick Blind ha nominato Nicolas Edoardo ha nominato Gustavo Ilona ha nominato Gustavo Geremias ha nominato Nicolas Durante le nomination sono anche arrivati i due nuovi naufraghi dell'isola 2022, Marco Senise e Licia Nunez Marco si è unito ai Cucaracia, Licia ai Tiburon.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video